Se avremo la disponibilità di 8 milioni e 200 mila vaccini, noi ci proporremo l'obiettivo di essere la prima regione d'Italia e d'Europa a uscire dall'epidemia. L'obiettivo che perseguiamo è fare della campagna la prima regione d'Italia e d'Europa a uscire dall'epidemia, lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook di venerdì scorso. Siamo impegnati, continua il presidente, in una sfida quasi folle, essere la prima regione che sconfigge il Covid-19. Per riuscirci dobbiamo fare un'operazione di straordinaria complessità, di grande difficoltà organizzativa al limite delle possibilità. Sono però assolutamente convinto che siamo in grado di raggiungere questo obiettivo. Se noi facciamo 20 mila vaccinazioni al giorno, noi nell'arco di un mese facciamo 600 mila vaccinazioni. 600 mila va moltiplicato per due. Quindi noi ci mettiamo due mesi per fare la vaccinazione completa per 600 mila nostri concittadini. Se vogliamo arrivare a fare 4 milioni e 200 mila vaccinazioni complete, noi dobbiamo fare 8 milioni e 400 mila somministrazioni, iniezioni. Il problema vero che noi abbiamo di fronte è quello della quantità di vaccini disponibili. Ci è stato detto informalmente dal commissariato che noi avremo a marzo in Italia 4 milioni di vaccini Pfizer. La Campania può contare, se si rispettano le proporzioni legate agli abitanti, la Campania dovrebbe avere il 10% di questi 4 milioni. 400 mila vaccini. 400 mila vaccini significa 200 mila cittadini che completano i due cicli. Allora, voi capite che noi dobbiamo fare questa operazione. avere non meno di 5 mila persone che per un anno intero si dedicano esclusivamente alla campagna di vaccinazione. È una sfida immane. Se avremo quello che ci serve, i vaccini necessari, per quello che riguarda l'organizzazione, io non ho dubbi. e noi saremo capaci di fare questo miracolo, per il quale vi chiedo il massimo di aiuto e di collaborazione. L'obiettivo è riconquistare la nostra vita.